il club con il numero 14 Celi con il numero 6 Nicola anzi scusa di Vitozzi numero 7 prova al destro la risposta del portiere in calcio d'angolo Matozzo a cercare Tabrini in re di rigore Tabarini col Mancino e la salva Paoletti sulla riga Di Mauro numero di Lupi che va via Lupi vicino a lui Tabarini dall'altra parte Matozzo Lupi fino in fondo poi cerca Tabarini le finte di Lupi che va all'uno contro uno salta il primo poi calcia il vantaggio del Totti Sporting Club con il numero 9 Marco Lupi 1 a 0 chiamato da mister Carlo Cancellieri per poca cattiveria secondo il suo allenatore attenzione la svirgolata in aria e il tiro in a rete il gran gol di Danilo Vitozzi che sfrutta l'occasione e pareggia subito 1 a 1 attenzione all'errore però con Matozzo che entra in aria di rigore Matozzo alla serie di finta e poi il Mancino il vantaggio del Totti Sporting Club ottima azione del numero 20 lo rivediamo anche nel replay fino in fondo ha superato tre giocatori anche il portiere però attenzione dall'altra parte con Paoletti il pallone arriva in aria la rovesciata clamorosa per il pareggio della Fraschetta 2 a 2 si torna in parità allora con il gol viene raddoppiato duello sulla bandierina il pallone non è ancora uscito poi il cross dice Niccole buono per Matozzo traversa clamorosa poi deve appoggiare a Matozzo che con una finta elude due avversari salta anche il terzo Matozzo Paoletti il pallone è lì Lupi il vantaggio del Totti Sporting Club la doppietta di Lupi il pallone è raccolto molto bene è portato in avanti da Marco Lupi che con un numero ha saltato Paoletti ancora Lupi salta anche un altro avversario Lupi Paoletti si allunga Tabarini lo stop non è finita entra in rigore Tabarini Paoletti un'altra grande parata la squadra di maglia blu che prova ad avanzare buon break di Lupi che salta un avversario a puntare il secondo mette dentro verso Tabarini il sinistro il quarto gol del Totti Sporting Club è firmato da Tabarini 4 a 2 su questo controllo di Tabarini l'arbitro fischia tre volte è finita Sport City vince il Totti Sporting Club per 4 a 2 grazie alla doppietta di Lupi e le reti di Matozzo e Tabarini a cui hanno risposto Vittozzi e Audisio